Minauda, una vittoria importante, uno scontro diretto per la salvezza, ormai insomma state tranquilli, come affronterete le prossime partite? Le prossime partite vanno affrontate come le abbiamo affrontate fino adesso, sempre col piglio giusto perché c'è da fare sempre punti. La zona salvezza non ci compete per me con questa squadra perché abbiamo dei giovani importanti e dei giocatori che per me sono di un'altra categoria. Ma come si spiega il vostro rendimento in casa che è assolutamente da vertice e invece fuori casa avete collezionato molte sconfitte? Ti ripeto, siamo una squadra giovane, andando fuori casa a volte in queste categorie i campi ci aspettano tutte battaglie, se il primo tempo lo facciamo bene il secondo veniamo meno, se facciamo il secondo bene il primo veniamo meno. Bisogna lavorare su questo aspetto, ci racconti il calcio di rigore che è del 2-0? Sì, il rigore credo che è il mio fortino, ho una media in queste categorie abbastanza alta, ne ho sbagliato 1 su 19, il gol lo dedico a mia moglie e al mio bambino che mi sostengono sempre a tutta la squadra che merita tanto, è la società che fa sacrifici per non farci mancare niente.